Due pellegrini che camminano, raccontano e si raccontano Buon divertimento, buon viaggio, se vi trovo spalmati sulla strada si ma mi sa che sarà difficile raggiungervi Oh yes! Superato! Pieno o metà? Pieno o metà? Sì 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 Pieno? Sì sì Sono tante No ma anche lei ama fare le cose da sola, mia mamma Io tento di aiutare mia mamma, lei la prende male perché dice io sono in grado di farlo Un saluto per la stampa Grazie Assolato ma bello Sto male Federico tu mi te la dirai No adesso sarebbe stato bello rispondere Oh yes sir I can boogie, I can boogie all night long I can boogie, boogie boogie I can boogie, boogie boogie all night long So So No 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 Gira il sole, gira, da che parte ci giriamo? Eh? 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 Oh, non rispondono, rimaniamo così, ciabelli è vero che quella è Montalcino, non me ne sono accorta Montalcino Sono qui, bello rilassato con questi due bei calici di Brunello di Montalcino A Montalcino! Grazie a tutti! A San Quirico, Dorcia, patrimonio dell'UNESCO Grazie a tutti! Grazie a tutti! Abbiamo fatto i 100 km, abbiamo avuto il primo momento di crisi, si è messa a piovere, è un momento sbagliato, anche dal prima, però la fine ce l'ha già fatta, domani c'è il tappone! Il tappone dolomitico, tutto il tracciato, però lo facciamo con calma, ci fermiamo più volte a fare il bagno Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!